Ciao ragazzi, in onore dei Books Brothers, la prospettiva è cambiata, non più in macchina ma un piccolo scorcio di casa mia. Allora, questo breve video, solo per comunicare che partecipo alla challenge e partecipo con il testo Il Principe Felice ed altri racconti di Oscar Wilde. Allora, io abito a Napoli perché ho studiato qui e vivo da tanti anni qui, quindi parte dei miei libri sono qui e parte dei miei libri è a casa. Essendo un libro del mio passato, il libro in originale è a casa, quindi in fase di montaggio vi metterò delle immagini recuperate online. Scusatemi, mi stavo per uscire, quindi mi stavo preparando, quindi già sciarpeggiata. L'ho recuperato online, quindi lo leggerò in formato ebook e invoco, attenzione allarme, invoco bonus e sapete perché? Perché tornerò a casa in Calabria per il 24 e 25. Quindi, se riesco a trovarlo, nel momento in cui vi dovrò fare la piccola recensione per il 26, che sarò sulla Serena Eurogeo Calabria, quindi dovrò comunque farla un po' prima perché in autostrada mi viene un po' difficile. Dicevo, se riesco a trovarlo vi fotograferò, vi farò un piccolo video del testo in originale del mio passato. Invocato, invoco il bonus! Grazie, allora. Un bacio, quindi partecipo con il primitivo felice d'altri racconti di Oscar Wilde. Un abbraccio!